Valerio Marra, buongiorno! Ciao, buongiorno! E benvenuto davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per farci incontrare questo romanzo, ma non troppo, ovviamente, perché qui nel Posto delle Parole, come solente diciamo, abbiamo stare sulla soglia delle storie, perché crediamo che sia importante non raccontare troppo perché saranno gli ascoltatori, poi prossimi lettori, pagina dopo pagina, a scoprire i libri e in questo caso il romanzo di Valerio Marra, La nuova maestra, non adatto ai minori, c'è scritto in copertina, lo scopriremo fra poco, il thriller italiano dell'anno pubblicato dall'edizione IPM, Valerio Marra, scrittore, saggista, lavora e viva a Roma ed è laureato in scienze per l'investigazione e la sicurezza all'Università degli Studi di Perugia. Qui non può non esserci la domanda, ci racconti cos'è esattamente questa scienza per l'investigazione e la sicurezza? Che cosa vuol dire? Diciamo che è prevalentemente sociologia, psicologia, materie legate comunque all'investigazione, alle indagini, sia la criminologia che la criminalistica, ecco, per farla in breve. Per farla, per farla in breve, tra l'altro è autore anche di altri romanzi, La donna del lago, Una notte buia di settembre e poi La storia di Roma in Cento delitti, uscito due anni fa. E adesso andiamo, andiamo a scoprire questo romanzo incominciando dalla copertina che è firmata da Stefano Pavolini, un illustratore animatore italiano. Allora, che cosa ci dice questa immagine, Valerio Marra? Stefano è stato un professionista eccezionale, noi abbiamo, è stata proprio la PM a metterci in contatto, abbiamo lavorato appunto in stretto contatto per l'appunto, abbiamo lavorato molto bene e sulla copertina abbiamo detto, ok, facciamo una copertina che possa comunque, diciamo, indirizzare, introdurre il lettore nel libro. E quindi abbiamo provato, abbiamo inserito un disegno come se l'avesse fatto proprio il bambino. Il nostro bambino che disegnerà, poi vedremo un po' più avanti probabilmente la storia. E quindi abbiamo messo questa copertina con questo disegno e questo bollino non adatte minori che ovviamente è a scopo pubblicitario perché è un'operazione di marketing, perché devo dire che in realtà è stato letto da ragazzi di 12-13 anni e mi hanno detto, ma per quale motivo non potevamo leggerlo? Ma no, assolutamente, era quasi un gioco, uno scherzo, però ecco, diciamo che è stato divertente anche inserirlo perché poi diventa un argomento di discussione molto spesso. Eh sì, un argomento di discussione ed è importante anche perché poi creare la proibizione vuol dire creare l'interesse, la curiosità. Esatto. Mi sembra una buona operazione, una di quelle operazioni marketing che sono lecite, sono simpatiche, sono anche interessanti. Ma sì, ma certo, certo. E anche per dare un po' di colore lì, ecco. Lì c'era un po' un punto, era quel punto che ci mettiamo lì. Ci volevo, ci volevo. Poi adesso andiamo a conoscere il protagonista perché come ci racconta Valerio Marra in questo romanzo, la storia di questo protagonista sì, fa delle cose, ci sono delle vicende che devono essere necessariamente conosciute, a meno per i lettori, però la cosa per me più bella che ha compiuto Valerio Marra è proprio lo scavo psicologico. Ma prima di entrare in questa parte, chi è Teo? Scusami, chi è Teo? Chi è Teo? Teo è un bambino di quattro anni. La maestra Giulia, la nostra protagonista, lo conosce appena fa il suo debutto, appena inizia a lavorare in questa scuola. E Teo è un bambino molto introverso, ha quattro anni, parla pochissimo e disegna molto. Diciamo che i disegni di Teo iniziano a diventare sempre più inquietanti via via con il tempo. E la maestra Giulia, che nel frattempo sta vivendo un dramma personale perché le è appena morto il fratello di un incidente stradale da qualche settimana e lei si sente in colpa anche per la sua morte, piano piano si avvicina a questo bambino e vede la possibilità di salvarlo come la possibilità anche per viversi, per salvarsi anche lei da questa sensazione, da questo senso di colpa. Quindi impegna, si impiega, mette tutta se stessa per cercare di scoprire cosa ci sono, cosa c'è dietro questi disegni. E quindi... Anche i disegni, anche i disegni Valerio Maro nel corso della narrazione, pagina dopo pagina, anche i disegni del piccolo Teo hanno una trasformazione. Lo vedremo, lo possono vedere gli ascoltatori anche leggendo il libro, no? Perché anche attraverso il senso, il gesto artistico potremmo dire così, perché comunque è un bambino e quindi accettiamo giustamente questo valore artistico di infanzia. E allora questi disegni narrano a volte molte cose che sono negli spazi bianchi del romanzo. E qui troviamo veramente una... nemmeno una insoddisfazione, troviamo una necessità forse di qualcuno, necessità forse di qualche cosa, senza entrare troppo dentro. Sì, sì. Lui cercava di comunicare qualcosa che sapeva, che aveva visto, che aveva percepito e mette in guardia anche la protagonista, anche la maestra Giulia, la mette in guardia come se le stesse accadendo qualcosa. E in effetti le sta accadendo qualcosa, perché dopo qualche giorno che inizia a lavorare lì alla nuova scuola piano piano uno inizia a fare degli incubi, a essere smemorata, a fare ritardo, a sentirsi poco bene anche dal punto di vista fisico, quindi anche a lei sta accadendo qualcosa e sembra che Teo la stia mettendo in guardia con i suoi disegni. E in esergo c'è... ci sono quattro righe che poi ritroviamo nelle prime cinquanta pagine, credo, di questo romanzo. Chi è la persona in questo disegno? È cattivo, lui mi uccide. Ma cosa dici? Sei un bambino. Lui mi uccide poi quando sarò grande, quando sono grande. Ecco, lui mi uccide quando sono grande. E dopo di questo non c'è stato altro che silenzio. Lui mi uccide quando sono grande. E questa è la grande paura di Teo. Esatto, esatto. Poi infatti lo troviamo più avanti questo dialogo perché poi è stato estratto, no? Questo esergo è stato estratto da una pagina molto più complessa ovviamente. E diciamo che è una paura, è una paura che ha il bambino. Adesso bisogna stare attenti perché qui rischiamo di spoilerare, come si dice, un po' una parte, uno dei finali. Però sicuramente è una paura, è qualcosa che Teo ha percepito magari oriando, sentendo, anche soltanto percependo. Ecco, diciamo così. Quindi diciamo è una sua paura. E ha capito che c'è qualcosa che la potrebbe uccidere, ma non adesso, ma quando è più grande. Ma quando sarà più grande? Se le parole sono importanti, le parole hanno un peso, no? C'è scritto a un certo punto del romanzo. Che peso invece hanno i disegni? Perché le parole sono importanti forse per i grandi, ma per Teo forse la liberazione passa attraverso lo schizzo, il disegno. Sì, è proprio così perché diciamo il vocabolario di Teo è molto ridotto, anzi parlerà pochissimo durante questo libro. Tanto che sospettino che possa avere anche qualche problema, ecco, dal punto di vista proprio del linguaggio. E quindi lui si esprime attraverso i disegni, quindi tutto ciò che lui deve dire lo dice attraverso i disegni, tutte le sue paure, anche le sue gioie. Quindi, diciamo, è il suo modo, la sua espressione, il modo di esprimersi che ha questo bambino. Però c'è un legame, si crea poi, è un legame molto, molto stretto tra la maestra Giulia e questo bambino. Ed è un legame molto particolare, nel senso che forse, come diceva quella canzone, bisogna trovare il gancio in mezzo al cielo. Per Teo la maestra Giulia era per l'appunto quel gancio. Sì, è proprio così. Diciamo che era un gancio anche per Giulia, Teo, perché, come dicevo, lei stava vivendo questo dramma personale, questa scomparsa del fratello. E vede la possibilità un po' di aiutare questo bambino come la possibilità di potersi rifare, perché lei vive questo senso di colpa. Quindi, aiutando Teo, avrebbe aiutato anche se stessa. Quindi, in realtà, si sono aiutati a vicenda, cioè Eo e Giulia. E questo romanzo è ambientato a Frascati, non siamo lontani da Roma, no? E quindi anche i luoghi hanno la loro importanza. A proposito di Roma, se ricordo bene, a un certo punto quando si racconta che è notte, no? Il buio avvolge Frascati. E mi piace molto ricordare questo, c'è scritto, spero di ritrovare la sottolineatura, perché se la ricordo, io la ricordo in maniera sbagliata e mi spiace. Eccola qua. Allora, da qui a Roma è come una tela scura punteggiata da luci che brillano come stelle sparse. È bella questa immagine che da Frascati si veda Roma come una tela scura. Sì, è vero. Ah, da bel vedere, io poi vado spesso a Frascati, quindi sono vicino a casa in realtà, quindi è un luogo che conosco bene, perché poi ho ambientato tre, questo è il terzo romanzo di ambiente proprio a Frascati, quindi poi la conosco anche bene. E in effetti da bel vedere sembra che ci sia quasi una tela, una tela nera, ecco, questa sia proprio una tela, ecco, diciamo così, e ci siano questi puntini, queste luci che sembrano a volte gioielli, che brillano. Ecco, diciamo, bisognerebbe proprio vederla dal vivo per capirlo, però ecco, ho cercato di rendere un po' questa immagine attraverso le parole. Ecco, mi è venuto così. Ed entriamo Valerio Marra nel terreno, per me molto importante, perché leggendo questo romanzo, come dicevi in apertura di conversazione, sì, c'è lo sviluppo della vicenda che ci lascia a toniti spesse volte, però c'è lo scavo psicologico, perché forse era necessario entrare nella psicologia per raccontare soprattutto Teo, e poi soprattutto fino alla raffigurazione dell'eroe mitologico, perché qui superiamo forse il fatto, superiamo persino il fatto stesso della psicologia per entrare nella psicoanalisi. Sì, diciamo che è un romanzo molto psicologico, almeno soprattutto all'inizio, perché per una questione a livello proprio pratico, dovevamo creare comunque sia il mondo ordinario, fatto di routine, quindi per alcuni aspetti ci sono delle ripetizioni della giornata, delle ripetizioni delle routine, perché dovevamo sconvolgere questo mondo ordinario, che era stato già stravolto dalla perdita del fratello, quindi il mondo ordinario di Giulia ha subito delle variazioni, e quindi noi troviamo queste modifiche, quindi la routine giornaliera che sembra ripetitiva, subisce via via delle modifiche all'interno di questo romanzo, e poi diventerà ovviamente sempre più d'azione, diciamo così, però è importante ovviamente curare l'aspetto psicologico, perché se non avessi curato e non avessi prestato attenzione all'aspetto psicologico, ci saremmo persi alla fine tutto quello che è il romanzo, tutta quella che è la crescita, tutto quello che è il dramma e l'attenzione che vive sia Teo che la maestra, quindi era importante curarlo molto dal punto di vista psicologico, soprattutto nella prima fase, anche per dare degli indizi al lettore, perché è una modifica di una routine, è una modifica appunto quindi del proprio fare, del proprio pensiero, di per sé poteva significare un indizio, anche quello oltre i disegni, oltre quello che accade all'interno del romanzo, quindi ecco è stato importante ricrearla, e mi sono impegnato insomma, ho prestato molta attenzione a quell'aspetto. La nuova maestra è il romanzo di Valerio Marra pubblicato dall'edizione PM, il thriller italiano dell'anno, ed è un romanzo questo che nella lettura diverse volte mi sono chiesto, ma quanto io sono lontano rispetto, o sono vicino rispetto a questa storia, quanto mi può per certi aspetti anche rispecchiare nelle persone che conosco, nei bambini che conosco e così via, perché questa è una storia sì, che parla di altro, no? Però ci vengono in soccorso le ultime parole e nulla, rivelo, è una storia che è anche la nostra. Sì, è così, se ci pensiamo, ecco io ho scritto da un punto di vista di una ragazza, quindi una ragazza di trent'anni, quindi dal punto di vista femminile, ma in realtà la storia di Giulia è anche la nostra storia, ma ogni storia che c'è all'interno del libro, anche quella di Teo, può anche essere stata la nostra storia, o la storia di qualcuno a noi vicino. Quindi tutto ciò che scriviamo, tutto ciò che leggiamo per alcuni aspetti è anche la nostra storia. Quindi diciamo che per me è stato bello anche mettermi da questo punto di vista, cercare di raccontare questa storia, io ho provato a farla al meglio delle mie possibilità e devo dire che sono contento, sono contento poi, ripeto, è una storia che è anche la nostra, quindi, e può essere anche la nostra, ma non soltanto quella di Giulia, anche quella di Ettore o quella di qualsiasi altra persona all'interno di questo romanzo. E spero di aver fatto il massimo, spero possa piacere, ecco. Valerio Marra, prima di salutarci invece, qual è? Qual è il libro che fa compagnia in questi giorni d'estate? Il libro che sto leggendo? Sì. Ah, che sto leggendo? Adesso Carofiglio. Non ricordo il titolo, è un legal thriller, che ho iniziato a leggerlo da qualche giorno, che avevo terminato... Il libro di Gianrico Carofiglio o di Francesco Carofiglio? Francesco Carofiglio. Quindi la stagione è bella? No, non è, è un libro da data, adesso non lo ricordo. Non ricordo bene il titolo perché... Noi siamo in tanti a non ricordare i titoli, perché quando si pone la domanda che libro stai leggendo, a me si apre un vuoto catodico enorme, faccio delle figure, mi arrampico sui vetri, e poi cercò di dire qualcosa ma stessi zitto, veramente, e quindi... Ed è una cosa normale dimenticare i titoli. No, ma perché è iniziato proprio ieri, perché avevo finito quello di Francoforte, che era Carolus, quello di Carlo Magno. Carlo Magno. Esatto, quello ancora lo ricordo bene, questo l'ho appena iniziato, ma è un libro, poi lo sto leggendo in ebook, perché non lo trovavo cartaceo. Quindi quando è così è ancora più difficile ricordarsi i titoli. Però mi sta piacendo molto, devo dire. Bene, intanto. È un legal thriller, è molto anche ironico. È ironico come la scrittura, ironica e profonda, di Francesco Carofiglio. Il nostro figlio, intanto grazie, grazie davvero Valerio, e buona giornata e buona estate. Grazie a te, buona estate a te e a tutti gli ascoltatori, e buona giornata e grazie ancora.